ciao a tutti eccoci qua di nuovo all'earnete per un'altra veloce recensione quest'oggi abbiamo pandemic pandemic gioco estremamente conosciuto dagli amanti dei giochi scatola e noi qui bottega abbiamo la versione pandemic una nuova sfida che a differenza del legacy che giocabile soltanto per massimo di quattro giocatori e per un'unica partita perché viene intaccato il gioco durante la partita appunto invece questa versione è rigiocabile all'infinito un gioco complesso dai dieci anni su un gioco cooperativo estremamente divertente rigiocabili abbiamo anche la versione pandemic della zona rossa nord america ambientata appunto nel nord america questa volta a differenza di questo che per 4 giocatori fino dai due a quattro questo è uguale ed è due a quattro va bene però in realtà è dagli otto anni su ed è un pochino più semplice le infezioni a differenza di questo che sono quattro nel mondo in questo sono tre e le dinamiche di gioco sono più semplici oltre al fatto che se volete andare in giro in vacanza quando potrete andare in vacanza o se state guardando questo video quando è già finita bene portatevi in vacanza questo oltretutto se avete degli amici in casa e non avete non sono appizzi al gioco in scatola e di questo è complesso passate un sacco di tempo a spiegarvi le regole una volta imparate in realtà il gioco è semplicissimo però con questo qua sicuramente è più semplice iniziare a giocare quindi potreste fare un'escalation questo poi questo e poi il legacy che io non ho ancora giocato ce l'ho ancora fanato a casa bene iniziamo a vedere cosa c'è dentro allo scatto tutto pronto già qualche città è infettata perché siamo appunto nel corso di una pandemia mondiale ottimo allora quindi siamo una squadra di ricerca dobbiamo cercare di salvare l'umanità da quattro virus che viaggiano contemporaneamente nel mondo questo gioco cooperativo quindi noi insieme dobbiamo sconfiggere il gioco un gioco che ha più livelli di difficoltà sulla base di quante carte epidemia andremo ad inserire nel nostro mazzo di partenza ok ognuno di noi ha quindi un personaggio con un ruolo specifico io sono il medico matteo il coordinatore laurea pianificatore di contingenze che ha delle abilità particolari che possono tornare che tornano utile nel corso della partita si parte tutti da atalanta perché tutte le sfortune dell'universo capitano sempre negli stati uniti d'america insegna hollywood e iniziamo quindi con la nostra partita in questo caso potrei iniziare io come si fa per vincere trovare l'antidoto per tutti e quattro i nostri virus per andare a debellare un virus servono cinque carte dello stesso colore e non è per niente semplice riuscire ad arrivare a queste cinque carte aggiungerei alla fine di ogni turno si pescano delle carte su cui emergono cioè appunto un nuovo contagio Los Angeles ok e mano a mano che si pescano le carte quindi la malattia diventa sempre più importante e noi dobbiamo insieme cercare le cure ma anche muoverci per andare a debellare mano a mano esatto aggiunto un quadratino infezione alla città che ha già tre quadratini scoppia un focolaio e quindi rimangono tre ma si vanno a puntaggiare anche tutte le città accanto e aumenta livello di focolaio se si arriva alla zona col deschio che vuol dire morte vuol dire che si è andati a perdere è veramente veramente complesso estremamente divertente serve strategia e molta comunicazione tra i giocatori per trovare la strategia migliore per andare a sconfiggere il nostro virus ecco dunque arrivati alla fine della recensione questo gioco come gli altri che abbiamo recensito li trovate nella nostra bottega di ermete e ci vediamo al prossimo video